Per la settimana sport siamo con un bacio calupo Andrea Dell'Igorna. Allora Andrea, come hai visto questa partita? Una partita molto tosta contro una squadra organizzata come il Fossano. Siamo partiti bene, il primo tempo abbiamo costruito tanto, purtroppo abbiamo realizzato poco. Il secondo tempo una volta andati in vantaggio ci siamo chiusi bene. L'unico dispiacere è quello di non averla chiusa prima, però sono cose che nel calcio capitano e siamo stati bravi comunque a mantenere il vantaggio. Tante occasioni, però oggi siete riusciti a portarle in porto, non come a Tortona e come un'altra partita mi sembra con la Castellanzese. Sì, siamo stati sicuramente anche sfortunati a non trovare il 2-0 in più occasioni, però nel calcio sono cose che capitano, una volta va dentro, una volta fa fuori. L'importante è ridurre sempre al minimo i rischi, questa volta al minimo non li abbiamo ridotti, però diciamo che ci accontentiamo e ci prendiamo questi tre punti importantissimi. Ok, grazie. Di nulla. Ciao.